Grazie a tutti Questa è la Urus Il nostro portafoglio prodotti si allarga per conquistare nuovi clienti ma sempre con una vettura che abbia una caratteristica con il DNA della Lamborghini Siamo qui, qui nel cuore, nel cuore dell'espansione, nel cuore produttivo dove assembliamo la Urus Eccoci, questi siamo noi Siamo quelli delle vetture che avete appena visto passare nel tunnel del DNA La vettura raggiunge 305 km all'ora, è il SUV più veloce al mondo Viva la Lamborghini, viva l'idea di una manifattura che non perde le sue radici ma che si trasferisce nel futuro con la tecnologia ma con il know-how antico di questi territori Auguri a tutti e di nuovo, viva la Lamborghini Viva la Lamborghini, viva la Santa Agata Bolognese Viva il centro Stile, viva il reale Urus Viva la produzione dei due super sports car, Aventador e Huracan e vedremo la nuova fabbrica del Urus e la linea di finito Grazie a tutti